Fumare una sigaretta è costato caro a un cittadino turco che si trovava all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'uomo, mentre si trovava in attesa in una delle sale dello scalo lagunare, è stato colto da una irrefrenabile voglia di fumare che lo ha spinto ad aprire una porta dell'edificio ed è entrato in pista. Immediatamente sono scattate tutte le misure di emergenza e sicurezza. La polizia di frontiera in pochi istanti lo ha bloccato e sanzionato e la sanzione prevista in queste circostanze è pari a 2.000 euro.